Dopo aver ottenuto i primi frutti positivi del Governo per lo slittamento a novembre dell'aumento dell'IVA nel settore della nautica previsto dal 10 al 22%, Gavino Manca, deputato del PD, chiede il riconoscimento di tre mesi di slittamento sul credito d'imposta sui costi degli ormeggi. La nostra attività parlamentare, ha detto Manca, sta raccogliendo i primi frutti positivi anche per il settore nautico, così duramente colpito dalla grave crisi economica provocata dall'epidemia del Covid. Dopo il positivo slittamento a novembre dell'aumento dell'IVA dal 10 al 22%, precedentemente previsto per lo scorso 10 aprile, grazie all'unanime approvazione da parte della Camera di uno specifico ordine del giorno a mia prima firma, in occasione del via libera del decreto di semplificazione, adesso chiediamo al Governo di portare a compimento l'ulteriore impegno contenuto e votato in quello di G, ossia il riconoscimento di tre mesi di credito d'imposta sui costi degli ormeggi, una tax credit parallela a quella decisa per le imprese dell'affitto dei locali. Sarà nostra cura, conclude il deputato del PD, vigilare affinché questo si concretizzi in occasione dell'approvazione a settembre del provvedimento sullo scossamento di bilancio. Lo dobbiamo ai 6.000 lavoratori coinvolti in questo deciso settore economico italiano.